Salvatore Maugeri, insegnante di elettrotecnica all'Istituto Riva di Saronno, ci vuole raccontare che cosa state realizzando qui in fiera? Buongiorno a tutti, siamo qui per partecipare alle Olimpidi della Robotica con la nostra squadra di ragazzi che ci mettono la programmazione. Le Olimpidi consistono in una serie di gare svolte tramite questi robot, ogni scuola ha a disposizione uno o più robot, sono tutti uguali identici e l'abilità sta nel programmarli in modo che svolgano i loro compiti il più velocemente e il più efficientemente possibile. Le gare si articolano su quattro fasi, abbiamo fatto stamattina line follower, cioè i robot devono seguire una linea, un percorso per certo con una linea nera e devono farlo nel modo più veloce possibile. Poi abbiamo fatto la lotta, i due robot lottano fra di loro e uno deve buttare fuori dal ring l'altro, siamo andati malissimo noi del Giulio Riva. Poi abbiamo fatto il labirinto, cioè il robot deve distruggarsi dentro il labirinto e trovare l'uscita e ora per pochi minuti vedete le gare di calcio che è l'ultima attività. Devo dire che questa è un'opportunità stupenda dal punto di vista didattico perché i ragazzi giocano imparando oppure imparano giocando, è la stessa cosa. Uniamo la parte didattica e la parte ludica.